Ritardi nei vaccini domani a rischio 5.000 prenotazioni Vallefoglia e Montelabate tornano in zona gialla Aveva più di un chilo di cocaina nel camion maxi sequestro dei carabinieri Amianto da oggi arrivano contributi per la rimozione Buona serata eccoci pronti come tutte le sere con il nostro telegiornale Oggi è mercoledì 4 maggio e in apertura parliamo, anzi facciamo il punto della situazione sanitaria nel nostro territorio Fra vaccini, contagi da Covid-19 e il loro impatto sui cambi di colore delle zone geografiche Cominciamo proprio dai vaccini perché la regione Marche ha preannunciato come domani Potrebbero essere rinviate ben 5.000 prenotazioni relative ai richiami delle seconde dosi del vaccino Pfizer Sono infatti a rischio ritardo le nuove forniture di 51.000 sieri E l'assessore regionale Filippo Saltamartini ha comunicato la possibilità di qualche slittamento Comunicando come l'utenza interessata sarà contattata telefonicamente In ogni caso per tutta la settimana si somministreranno circa 3.000 vaccini quotidiani In meno per poi tornare da sabato a 12.000 inoculazioni Ci sono invece delle buone notizie per quanto riguarda il territorio di Vallefoglia E anche quello di Montelabate che da domani tornano ufficialmente in zona gialla Come il resto della regione Marche I due comuni erano infatti sottoposti alle limitazioni della cosiddetta zona arancione rinforzata Dal 21 aprile scorso a causa dei dati dei contagi sopra la media percentuale di 250 ogni 100.000 abitanti Dati che si sono abbassati nell'ultima rilevazione effettuata fra il 26 aprile e il 2 maggio E che ora consentono ai due comuni di entrare in zona gialla dalla mezzanotte di questa sera Contagi che si stanno rilevando contenuti anche nel resto della regione Marche Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.416 tamponi Di cui 2.191 nel percorso nuove diagnosi I nuovi positivi sono 204 di cui 56 in provincia di Pesarurbino Nella giornata di ieri si sono registrati anche 6 decessi di marchigiani contagiati da coronavirus Un chilo e 350 grammi di cocaina è quanto i carabinieri di Urbino hanno sequestrato a un giovane moldavo Alla guida di un autocarro adibito a lavori di edilizia Si tratta del più consistente sequestro di cocaina mai effettuato nel circondario di Urbino Aveva un camion adibito ad attività edilizie ma non trasportava solo attrezzi o piastrelle Tant'è che all'alte di un controllo dei carabinieri i militari hanno trovato a bordo dell'autocarro Un chilo e 350 grammi di cocaina E' finita così in manette l'attività criminosa di un 22enne incensurato di origine macedone Scoperto dai carabinieri di Urbino affiancati dai colleghi di Urbania e Coglia al Metauro Dopo un controllo avvenuto venerdì sulla statale Frafano e Sant'Ippolito Si tratta della più grande confisca di cocaina registrata nel circondario di Urbino Un maxi sequestro di sostanza stupefacente del valore superiore ai 100.000 euro una volta immesso nel mercato Mercato che si suppone fosse quello della piazza romagnola Diversi indizi avevano insospettito i carabinieri al momento del controllo L'orario di mezzogiorno in cui circolava l'autocarro Gli abiti del giovane poco consoni all'attività edilizia E l'eccessivo stato di nervosismo Ispezionato il veicolo è stata trovata una borsa a tracolla adagiata dietro il sedile dell'autista Dove sono stati trovati diversi involucri contenenti cocaina per 1350 grammi complessivi Perquisita l'abitazione è stata trovata anche una spada katana giapponese detenuta illegalmente Ieri il GIP di Urbino ha convalidato l'arresto del 22enne macedone con custodia nel carcere di Pesaro E continuiamo con la cronaca perché a Fano una donna di 80 anni È stata trovata morta nel suo appartamento riversa terra in un lago di sangue Un decesso per cause naturali scoperto dalla polizia Che era stata allertata dai parenti che non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno forzato la porta Trovando l'anziana sul pavimento in una pozza di sangue Causata da un'emorragia nasale conseguente a un malore Incidente stradale alle 7 di questa mattina Sulla Monte Labattese all'altezza del distributore di metano Non lontano da Villa Fastigi Un motociclista di 26 anni che procedeva Si è scontrato per cause in corso di accertamento Con una macchina che viaggiava in direzione opposta Il motociclista è stato soccorso dall'eliambulanza E trasportato al torrette di Ancona La prognosi resta riservata Ma il ragazzo è sempre rimasto in stato di coscienza E' morto ad appena 54 anni Stroncato da una malattia L'ex consigliere comunale di Pesaro E consigliere provinciale Callisto Cerisoli Persona molto nota per il suo impegno in politica e nel sociale Oltre che per la sua attività lavorativa Nel settore del legno Cerisoli viveva a Monbaroccio Dove fu candidato a sindaco alle ultime elezioni amministrative E dopo l'esperimento dell'estate 2020 Il Comune di Pesaro ha ufficializzato oggi Il ritorno della pedonalizzazione di Viale Trieste Sarà in vigore da inizio giugno al 4 settembre E sarà valida tutti i giorni per 24 ore Nei tratti di Viale Trieste Compresi fra Viale Zara e Vianinchi Fra Viale Marconi e Via Pola E in parte di Viale Da Vinci e Viale Fiume Verrà anche creata una nuova area pedonale Sul lato mare di Piazzale D'Annunzio E Via Nazario Sauro Dove in questi giorni si stanno completando lavori di asfaltatura Sempre in zona mare Procedono i cantieri invece al vecchio palasport di Viale dei Partigiani Dove si sta allestendo la copertura del nuovo auditorium Da oggi la regione mette a disposizione 200.000 euro di contributi Per la rimozione di componenti in amianto Un passo importante verso bonifiche ambientali troppo spesso rimandate Oggi si possono presentare in regione le domande Per la rimozione di coperture manufatti Di piccoli coperture manufatti per i privati È un primo passo naturalmente Sono stati stanziati 200.000 euro Ma sappiamo benissimo che 200.000 euro per un territorio come le Marche È una cifra irrisoria Ma confidiamo che questo è un inizio E che in futuro Questi tipi di contributi Vengono confermati Soprattutto incrementati Ogni anno Sia da parte della regione Che da parte del comune naturalmente Perché bisogna unire le forze delle istituzioni E naturalmente anche di noi cittadini Le domande potranno essere scaricate dal sito della regione Presentate da oggi 4 maggio Fino al 30 di settembre Naturalmente troverete anche tutti i criteri Per l'ammissibilità alla domanda È molto importante Che vengano utilizzate Praticamente le aziende Che faranno questi interventi Iscritte all'albo nazionale dei gestori ambientali Questo è fondamentale E in più Sempre in questo bando Rientrano gli interventi fatti Dal 30 di aprile 2020 Fino al giorno prima Della presentazione della domanda Grazie alle segnalazioni dei cittadini Scopriamo ogni volta delle situazioni critiche Di verifica Dai cittadini E inviamo segnalazioni agli organi competenti E questo è fondamentale Quindi è per questo che dicevo prima Che abbiamo bisogno dell'aiuto anche del comune Della regione E naturalmente anche di Roma Ma arriveremo anche a Roma Perché il comitato Praticamente ha la sede principale Proprio a Latina E il nostro presidente A livello nazionale Avvocato Bonanni È proprio in contatto Anche con gli organi del governo Perché qui purtroppo Ogni istituzione deve fare la sua parte Anche noi cittadini Naturalmente dobbiamo fare la nostra Che è quella intanto di segnalare Ma la segnalazione non vuole essere Una punizione La segnalazione vuole essere Un qualcosa per prendere atto del problema E tenere alta l'attenzione Su quello che è l'amianto Che è un problema veramente grande Un momento questo dell'inizio degli incentivi Che arriva a pochi giorni Da una giornata simbolo per voi Quella della giornata delle vittime di l'amianto Commemorata sia a livello regionale Che comunale Sì Il 28 di aprile È la giornata mondiale Delle vittime di l'amianto E quest'anno Per la primissima volta Sia qui a Pesaro Che con la regione Marche Abbiamo avuto questo momento Di commemorazione Siamo innanzitutto a Pesaro Abbiamo avuto questo momento Al parco Trulla Abbiamo scelto il parco Trulla Perché porteremo avanti Continueremo un progetto Che è iniziato proprio in quel parco Il 28 aprile 1990 Dove studenti e insegnanti Hanno lanciato un appello Salvare l'ambiente E si sono resi custodi Di quel piccolo ecosistema Come noi ci rendiamo custodi della vita Cioè dobbiamo far ripartire Cioè dobbiamo trasmettere alle persone Ma soprattutto alle nuove generazioni Che bisogna prendersi cura dell'ambiente Perché altrimenti non ci sarà Né salute e né vita Che sia di buon auspicio Che sia un inizio Di un lungo progetto costruttivo Sia con Comune che con la Regione Ed ora ci spostiamo a Fano Dove il Museo archeologico E la Pinacoteca Riaprono finalmente le porte al pubblico Grazie all'iniziativa Tesori Svelati Che mette in esposizione Una serie di reperti finora inediti Al via anche le visite guidate Al Teatro della Fortuna Vediamo quindi il servizio di Simone Celli Porte aperte e su il sipario Da domenica 9 maggio Riaprono al pubblico il Museo archeologico E la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano Con loro anche il Teatro della Fortuna Un segnale di ripartenza per la cultura fanese Dopo lo stop dovuto alla crisi pandemica Tesori Svelati è il titolo delle esposizioni temporanee Che si svolgeranno al Palazzo Malatestiano A cui seguiranno altre iniziative Tra giugno e agosto Un nome in codice tutt'altro che casuale Dato che durante il periodo di chiusura È stato fatto un vero e proprio inventario All'interno dei depositi del museo Grazie al quale sono riemersi Diversi cimeli del passato Ora pronti per essere ammirati Dal grande pubblico Abbiamo voluto tirare fuori Tutti i materiali dei depositi Per ricontrollarli Verificare i dati nostri possessori Rifotografarli, ricatalogarli E poi pubblicarli anche in parte sui social Il nostro desiderio era quello però Di poterli rendere fruibili in presenza Da qui l'idea di partire appunto Con la riapertura del museo Che avverrà domenica 9 maggio Con delle piccole esposizioni Dal titolo Tesori Svelati Che saranno appunto concentrate Su questi beni che provengono dai depositi Si tratta in particolar modo di abiti Sono divise militari E abiti anche religiosi Paramenti sacri E che testimoniano una parte importante Della storia della città Infatti il nostro museo nasce come museo civico Museo che non raccoglie soltanto le opere d'arte Ma raccoglie ogni altra testimonianza Della storia della città E volutamente abbiamo voluto partire Appunto da un importante pezzo Della storia di Fano Ovvero dalla storia della confraternita di San Michele Esponendo queste tre tuniche Che rappresentano l'abito caratteristico Che veniva indossato dai confratelli Durante le solenni processioni sacre E su cui campeggia appunto Il simbolo della confraternita Ovvero San Michele San Michele che è il capesta satana E che è anche presente in altre opere Qui all'interno del museo Ovvero la grande pala dei morganti Che si trovava nella chiesa di San Michele E le brocche da farmacia Che si trovavano appunto nella farmacia di San Michele Annesso appunto all'ospedale Dove la confraternita si occupava degli esposti Ovvero dei bambini abbandonati Sì è un momento importante È un modo anche per ripartire E vivere i nostri beni storici e culturali In modo diverso In modo più partecipato In modo più condiviso La pandemia ci ha penalizzato molto Ma è stata anche un'occasione per ripensarci In questo caso anche per fare Gli inventari Reinventare i nostri depositi Sono ricchi di dipinti Ma anche di tante testimonianze del nostro passato Non lontanissimo A cominciare da abiti, armi, divise Quindi tutte cose che raccontano un pezzo della nostra città In questa circostanza Abbiniamo anche la visita al teatro Perché non dimentichiamo che anche il teatro È un contenitore culturale molto bello Visitabile E fra l'altro dei tesori anche nel sottopalco Come il mosaico romano Che molti concittadini non hanno visto Quindi è un'occasione per scoprire E conoscere meglio la nostra città E giustamente vedere anche quelle opere Che per ragioni di spazio Sono contenute nei nostri depositi E non fruibili Riaprire il teatro Per noi è stata una grande emozione Già lunedì scorso E immaginate invece adesso Cosa vuol dire poterlo riaprire tutti i giorni Ma questo evento speciale Che mette insieme il teatro della fortuna Insieme ai musei civici in queste domeniche particolari Dove il museo svelerà i suoi segreti E noi sveleremo tutti i segreti Che stanno custoditi nel sipario storico del teatro Sarà possibile ammirarlo anche attraverso delle slide particolari Perché abbiamo fatto una riproduzione Ma soprattutto si potrà godere di questa passeggiata All'interno del teatro della fortuna E visitabile, questa è la cosa ancora più speciale I mosaici che sono proprio sotto il nostro teatro È un biglietto unico Per chi andrà al museo potrà venire anche in teatro E chi invece viene solo al teatro Ha un biglietto da 3 euro Ed ora parliamo di scuola Perché due studentesse dell'alberghiero Santa Marta Hanno vinto il premio nazionale cioccolato giovani Realizzando un cioccolatino Pensate molto particolare Vediamo di cosa si tratta Abbiamo creato il cioccomoito Ovvero un cioccolatino con una ganache al rum E un gel di menta E l'abbiamo portato appunto a questo concorso Che si è tenuto online per via del covid a Torino C'erano diverse scuole da ogni parte d'Italia È stato ideato dall'associazione PS E il nostro tutor era il professor Santini E diciamo che abbiamo lavorato in team Come è venuta in mente l'idea di mettere il mojito Il sapore del mojito, del cocktail all'interno di un cioccolatino? Allora inizialmente l'idea è stata per creare un contrasto Perché quando si pensa al cioccolato Solitamente si pensa magari a un periodo invernale E diciamo un ambiente freddo Invece il mojito rappresenta per così dire l'estate, il fresco E quindi abbiamo deciso di unire queste due cose Utilizzando comunque sia anche ingredienti tipici del nostro territorio Come ad esempio il rum che è utilizzato nella moretta E il mentrasto che è un alimento tipico qui nelle Marche Quindi è un cioccolatino che può essere mangiato magari un po' più freddo anche in estate? Sì, è un cioccolatino dal sapore abbastanza fresco E non è particolarmente alcolico Quindi diciamo che è abbastanza flessibile a livello di assaggio Lo possono mangiare diverse persone E adesso che se vogliamo andare a mangiare questo cioccolatino Dove dobbiamo andare? Per il momento è disponibile qui nella nostra scuola L'Istituto Alberghiero di Pesaro E poi prossimamente vedremo Sarà venduto anche da altre parti Ed ora una notizia che ci riguarda Rossini TV infatti è molto lieta di dare il benvenuto a I Dieci Comandamenti Un nuovo programma ideato e realizzato dal nostro Giorgio Ricci Che andrà in onda tutti i giovedì sul nostro canale 633 Rossini TV Vediamo Le motivazioni che mi hanno spinto a fare questa serie sui Dieci Comandamenti Sono delle motivazioni che partono da delle considerazioni del momento che sto vivendo Ho 82 anni e sono circondato da un mondo che mi piace sempre di meno Abbiamo abbandonato, abbiamo perso di vista totalmente quelli che erano i principi sani Ma non tanto quelli che ci sono stati dettati duemila anni fa Quelli che ci sono stati dettati molto tempo prima E che duemila anni fa sono stati codificati E quindi ho pensato che se avessi portato o avessi tentato di portare all'attenzione di qualcuno Di nuovo il decalogo avrei fatto qualcosa di buono Ho pensato successivamente a come fare questa cosa A chi mi rivolgo Il passo naturale chiaramente è la Chiesa La Chiesa cattolica Però ho anche pensato che se un sacerdote Dovesse ripetere le lezioni sui Dieci Comandamenti Che ho avuto io negli anni 40 Avrei perso in partenza E allora ho chiesto e mi sono fatto suggerire dei nomi di laici Di persone per bene Di persone che hanno studiato profondamente i Dieci Comandamenti Non solo sui testi ma sul comportamento delle persone Ho avuto una grandissima collaborazione dalla Curia Che mi ha suggerito chiaramente i laici che si interessano di queste cose Ho avuto l'enorme fortuna di aver trovato tutte porte aperte E da tutto questo sono scatuliti 6 ore di risultato finale Che andremo a dare in pillole Grazie alla stupenda collaborazione di Russini TV Saranno 12 trasmissioni Suddivise dalla seconda settimana di maggio Fino alla fine Fino all'ultima settimana di giugno Nella prima trasmissione ci sarà Sua eccellenza Monsignor Coccia Che in poche parole Dà la sua placeta questa iniziativa Successivamente E quindi parliamo della terza settimana di maggio Ci sarà Don Marco Di Giorgio Che parlerà del decalogo in generale E poi Con la terza cominceremo a parlare Cominceranno a parlare del primo comandamento Con una stupenda performance del professor Garota Studioso Di testi antichi Che ci intratterà per un po' di tempo sull'argomento Con termini nuovi E termini a parere mio Convincente E dunque davvero complimenti al nostro Giorgio Ricci Non perdetevi quindi l'appuntamento Con la prima puntata dei Dieci Comandamenti Giovedì 6 maggio alle ore 10.30 di mattina Con la replica alle ore 19 Domenica alle 11.15 Lunedì alle 15.30 E invece adesso andiamo a vedere Quale sarà la programmazione di Rossini TV Per questa sera Questa sera si parla di sport Di football americano Che appunto ha ripreso il suo campionato Noi di Rossini TV lo stiamo seguendo A Come Angels Alle ore 21.15 E poi ancora stasera in seconda serata Invece abbiamo lo spazio web Michele Pansieri Topazio Perlini Intervistano Lady Perbacco Non perdetevi questa puntata Mentre domani Torna una nuova puntata di Casa Rossini Avremo con noi Marco Pirozzi Che è titolare della fondazione Francesca Pirozzi E poi ci sarà il sindaco di Cantiano Piccini E poi Roberto Occhialini Che è il titolare di Stile Ricamo Vi aspettiamo quindi in diretta TV e Facebook Domani alle ore 10 Ho detto davvero tutto Io vi aspetto anche domani mattina Se vi alzate in diretta alle 7.20 Con la nostra rassegna stampa Saremo in diretta anche in questo caso Sia TV sia Facebook Vi aspetto Grazie Grazie